ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video continuo nei bug su gt online infatti per l'ennesima volta rockstar games ha sfondato caio perico io non so perché con ogni aggiornamento devono toccare caio perico è tanto bellino o lo devono rendere più difficile o devono insomma rendere bagato o lo devono sfondare come in questo caso intanto come al solito ragazzi iscrivetevi mi raccomando per tutte quante le unità di gt online e soprattutto il mi piace o il mi piace è importantissimo per il posizionamento del video non vi costa nulla fatelo intanto qualsiasi arma andate a selezionare su caio perico quando fate il colpo vi uscirà appunto il set assalto quindi se voi andate a prendere cospiratore siete belli felici che fate il colpo con cospiratore no il gioco vi darà le armi della modalità assalto quindi qualsiasi cosa voi facciate vi usciranno sempre quelle armi altra cosa fantastica adesso quando morite a caio perico respawnerete con la ruota delle armi appunto vuota quindi se diciamo non siete proprio esperti e oppure vi dice sfiga e morite per qualche motivo respawnerete senza armi quindi dovrete riavviare il colpo ovviamente è un bug non è una cosa intenzionale di rockstar quando la risolveranno ve lo farò sapere nei commenti e non è finita qui infatti in caso voi dovesse riuscire a completare il colpo anche prendendo a cazzotti le guardie o evitandole tutte alcune volte vi potrebbe capirare che appunto l'obiettivo sia glicciato tipo sotto mappa quindi non lo potrete ovviamente prendere e come vedete notizie che vengono da twitter e reddit se cercate insomma in giro vedete che sono abbastanza arrabbiati con rockstar games visto che oltre ad aver rimosso quasi 200 veicoli aver rilasciato due aggiornamenti di fila con praticamente 10 missioni quindi insomma dlc veramente miseri oltre aver rilasciato contenuti a spezzettoni oltre aver messo 40 abbonamenti in più si sono messi anche a creare bug nel gioco io vi ripeto continuo a non capire come facciano con ogni benedetto aggiornamento a distruggere caio perico però comunque evidentemente ci si impegnano hanno messo il cooldown hanno cambiato il joggernaut hanno cambiato le guardie mo pure i bug insomma ragazzi è veramente ingiocabile speriamo che ovviamente risolvano entro venerdì perché se non risolvono entro venerdì e sto bug ve lo portate anche il fine settimana visto che il fine settimana non pacciano i glitch per qualche motivo però comunque vi ripeto ve lo farò sapere nei commenti vi ricordo se vi siete persi il video di prima c'è anche il bug in cui cancellano i veicoli se utilizzate il bunker e modificate il centro per radio mobile quindi fate attenzione guardate quel video dura due minuti così insomma sapete tutto quanto e poi più tardi vi aspetto con la recensione del nuovo jet che a quanto pare è l'unica cosa buona che hanno aggiunto con sto dlc dove ho appunto fatto i test anche con gli altri jet per trovare giocatori con cui potete giocare i colpi ma non caio perico c'è anche il colpo del casino che è un po' buggato però è ancora da verificare vi ringrazio veramente tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video e questo e questo e questo e questo è molto